Dunque, parlare di provvidenza oggi, tu hai detto una cosa giusta, come è possibile farlo tenendo conto che io mi occuperò di un periodo lontano, ma il concetto di provvidenza oggi dopo i disastri del Novecento, la Shoah, gli stermini, è un concetto che indubbiamente è entrato in crisi, come è entrato in crisi tutto il mondo e l'universo che lo reggeva. Dunque, noi dobbiamo fare uno sforzo da questo punto di vista, cercando di riflettere, perché io mi occuperò della fase germinale di questo concetto, nei primi secoli dell'era cristiana, di tener conto che questa idea che è centrale nel messaggio di Gesù ed è fondamentale nel sorgere stesso del pensiero teologico cristiano, è sorta e si è formata in un mondo che era radicalmente diverso dal nostro. Da questo punto di vista, ciò che dobbiamo tenere presente è che il concetto di provvidenza è stato messo in discussione come lo stesso concetto di Dio nella storia della tradizione teologica cristiana, ma anche della cultura occidentale, soprattutto dal problema dei mali, dal problema del mali, dal problema classico della teodicea. Se provvidenza, e vi darò poi una definizione di teologi antichi, e comunque significa nel senso comune il fatto che Dio provvede a tutto, si occupa di tutto, si occupa del cosmo, del mondo, dei mondi, come dell'umanità, come del singolo, come è possibile conciliare questa idea positiva di Dio con l'esistenza dei mali e soprattutto del male, del male radicale, l'interrogativo tipico della teologia. Ed è un interrogativo che accompagna la storia della nostra cultura. Faccio solo un esempio, visto che ci sono molti studenti e molte classi, penso a due autori, due grandi della letteratura italiana dell'Ottocento, che hanno due posizioni diametralmente opposte. Pensate al Manzoni, scrittore dalla fede cattolica profonda, Pensate alla sua idea di provvidenza, la provvidenza che atterra, ma anche consola. Pensate a com'è centrale questo concetto di provvidenza nei promessi sposi, laddove, per esempio, uno dei suoi protagonisti afferma che Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Manzoni, in questa frase estremamente sintetica, è fissa uno dei nodi della provvidenza, il rapporto tra provvidenza e dolore e sofferenza e male che tocca il singolo individuo, che tocca inevitabilmente il singolo credente. Ma nella rilettura di un cristiano come Manzoni c'è una finalità positiva nel dolore, nella sofferenza, nel male. E pensate a un autore come Verga, che è un ateo, e sembra quasi fare il controccanto a Manzoni quando, nei Malavoglia, alla barca, che è un po' una delle protagoniste silenziose del romanzo sul quale si compierà tragicamente il destino di morte di alcuni dei protagonisti di questa storia, Verga decide di dare il nome La Provvidenza. Dunque, queste due letture di questi due autori diametralmente opposti. Dunque, dicevo, è un concetto chiave nella storia della nostra tradizione culturale, ma è anche un concetto che si è formato nei primi secoli della nostra era quando la concezione del mondo era radicalmente diversa, era quella di un universo chiuso. Per i cristiani, come per gli uomini antichi, esisteva un unico mondo, un unico mondo che ruota l'universo tolemaico e che poteva essere, dal punto di vista biblico e cristiano, l'unico mondo creato dall'unico Dio. Dunque, il concetto di provvidenza cristiano presuppone questa concezione dell'universo chiuso dove l'unico Dio creatore crea un mondo al quale egli non può non provvedere, c'è una specie di necessità di questa provvidenza. E dunque è una provvidenza, prima di tutto, cosmica, questo è un aspetto importante perché oggi che l'ecologia e l'interesse per i problemi ecologici è centrale, centralissimo, questa idea della provvidenza cosmica è stata un'idea a lungo sviluppata dai padri della Chiesa. Però, in quanto creatore anche dell'uomo, Dio non può non pensare, non provvedere alle creature che egli ha creato, a tutte. E nella misura in cui egli le ha create, noi vedremo, si apre una delle tensioni fondamentali nel concetto cristiano di provvidenza, una l'ho già ricordata, il problema del male, ma non mi occuperò di questo. E l'altra che dà un po' il titolo alla mia conferenza, il fatto che, tenete presente che il termine latino provvidenza è ambivalente, come non so, il termine profeta, vuol dire parlare al posto di, ma anche prevedere, parlare perché si vede prima. E chi provvede, prevede. C'è questa ambivalenza del termine provvidenza che recca secco di conseguenza uno dei classici problemi nella storia del pensiero teologico e filosofico, che ci porta fino al festival della filosofia. Se Dio provvede, prevede, questo vuol dire che prevede il destino dei singoli prima della loro nascita, e dunque emerge quel problema del determinismo, perché Dio ha previsto tutto, e del rapporto tra il determinismo divino, che è, come dire, una conseguenza logica di questa prescienza di Dio, e il dono fondamentale che Dio fa all'uomo, la libertà, il libero arbitro. Dunque, il rapporto tra libero arbitrio e prescienza divina, che ci pone al cuore di una delle questioni teologiche e filosofiche legate al tema della provvidenza. Ecco, io cercherò di far vedere in questa lezione come i pensatori cristiani più antichi, per riflettere su questa tematica, si siano rifatti da un lato, in quanto uomini di fede, alla rivelazione, cioè alle scritture, a quelle che per loro erano la fonte della rivelazione, quello che i cristiani chiamerano l'Antico Testamento, cioè la rivelazione contenuta per i cristiani nell'Antico Patto, le scritture ebraiche, e poi quello che diventa progressivamente il Nuovo Testamento. E hanno cercato di rileggere questo dato biblico alla luce di alcuni concetti chiave che forniva loro la tradizione filosofica greca. Ed è da questo intreccio tra dato biblico, tradizione filosofica greca e oggetto della fede cristiana, la fede nel Cristo, in quanto figlio di Dio, che si è incarnato, è morto e risorto per redimere l'umanità, ecco, che si costruisce il concetto di provvidenza. Allora, partiamo da un primo testo fondamentale, un logion, o detto di Gesù, che voi tutti conoscete, se non l'avete letto, qui mi rivolgo ai più giovani, leggetelo, e che io vi citerò, che fa parte del capitolo 10 del Vangelo di Matteo, è un grande discorso cosiddetto apostolico perché Gesù dà una serie di consigli agli apostoli e ai discepoli prima di mandarli in missione. E a un certo punto Gesù dice Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate dunque timore, voi valete più di molti passeri. Ebbene, qui è un detto che probabilmente, secondo alcuni interpreti, può risalire allo stesso Gesù. Ha l'icasticità proprio di questi detti e comunque, anche se appartiene alla tradizione, cioè il modo in cui la tradizione ha ricostruito il messaggio di Gesù, ci riporta a un'idea fondamentale, il modo in cui Gesù e i primi seguaci del Cristo hanno riletto e conservato un aspetto essenziale, aspetti essenziali della tradizione biblica. Gesù era un ebreo, del Dio provvidente. E il detto è molto chiaro. Dio si occupa degli animali, del cosmo, i passeri, ma a maggior ragione si occupa dell'uomo. Ricordate che nella Genesi, dopo aver creato Adamo, Dio dà ad Adamo il potere sugli animali. Questa concezione che non piace molto alla tradizione ecologica, ma insomma, una concezione della natura fondamentale in cui l'uomo è signore del creato, al punto che l'uomo nomina gli animali. Dunque, se Dio si occupa del passero, a maggior ragione si occupa del singolo uomo. E questo detto conosce perfino i capelli del vostro capo, lo ritraduciamo, diciamo, in termini più intellettuali, vuol dire che Dio, vi leggerò poi un passo di un salmo, conosce l'uomo fino in fondo, il singolo uomo perché lo ha creato lui, lo ha generato prima della generazione materna. Dunque, c'è questa idea che Gesù conserva e che è presente soprattutto nelle cosiddette tradizioni sapienziali dell'Antico Testamento che Dio si occupa in quanto creatore dell'uomo della vita del singolo individuo. Ci sarebbero molti testi, io cito soltanto due versetti di un salmo famoso, il salmo 139, dove a un certo punto il salmista esclama, parlando con Dio, ancora in forme mi hanno visto i tuoi occhi, gli occhi di Dio, e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. anche questo testo, un salmo, il salmo 139, che ha recitato un ruolo fondamentale non solo per Paolo, ma per Agostino, per Lutero, in tutta la tradizione, diciamo, del pensiero teologico più determinista, perché questa tradizione, sulla quale ritornerò, trovava chiaramente espresso in questo salmo, io ho letto solo due righe, ma il salmo e di una profondità e sviluppa con tante variazioni questa idea fondamentale. C'è il libro della vita, che è un tema mitologico dell'Oriente Antico molto diffuso, secondo il quale la divinità, gli dèi, conoscono il destino, per esempio, del popolo, della nazione, del re, eccetera. Qui questo tema è applicato non più a una divinità, ma è applicato a un Dio che viene percepito come l'unico Dio che esclude gli altri. Ed è il libro della vita nel quale è scritto il destino del singolo, perché si nasce con un destino già scritto, e che di conseguenza dimostra per il salmista il fatto che Dio poi accompagna, perché ha già previsto tutto, il destino è già scritto. Che cosa succede? Qui si riprende un classico tema del destino greco, pensate alla Moira, e gli si dà una torsione profondamente religiosa, non è più il destino cieco, ma è un destino scritto da Dio del singolo che rimanda al fatto che Dio segue poi questo destino. E perché lo segue? E perché qui c'è una tematica profondamente religiosa, perché l'uomo poi è peccatore e Dio vuole salvarlo. Dunque questo tema del libro della vita, del destino scritto, i salmi, questo è un tipico salmo penitenziale, sono e diventa legato al problema centrale nella tradizione biblica dell'uomo peccatore che cerca la salvezza in Dio. Ho ricordato questo aspetto perché qui c'è in nuce, anche se non è espresso chiaramente nel passo che vi ho letto, ma è presente in altri passi che adesso non posso leggervi, un problema teologico fondamentale, com'è possibile che Dio voglia o permetta che l'uomo pecchi. Perché permette questo? E la risposta che viene data è perché comunque egli può provvedere alla sua salvezza. Dunque sullo sfondo c'è un problema che poi ritroveremo in Agostino, il diciamo mistero della volontà divina. Gesù dunque riprende questo tema centrale della tradizione sapienziale dei salmi biblica e un altro autore fondamentale tra i primi e i più antichi autori cristiani è naturalmente Paolo. Paolo lo sapete non ha conosciuto il Gesù della storia è un po' il tredicesimo postolo Paolo non è stato scelto dal Gesù storico lui racconta nell'Epistola ai Galati a questa pretesa se vogliamo straordinaria in un'epoca in cui tantissime avevano visioni e rivelazioni di aver avuto un incontro mistico col Cristo risorto che lo avrebbe prescelto chiamato all'apostolato e Paolo ha avuto in questo incontro mistico e misterioso l'incarico di essere apostolo non verso gli ebrei ma verso le genti i gentili quelli che noi chiamiamo i pagani nasce da qui l'attività missionare di Paolo e nasce da qui un pensiero a suo modo teologico a rigore Paolo non è un teologo in senso tecnico e però ci sono già una serie di spunti teologici note e per il nostro discorso ce n'è uno fondamentale che è il concetto che si ritrova nelle epistole autentiche di Paolo soprattutto nelle epistole ai romani e che è destinato a grande fortuna di economia o economia il termine greco cioè secondo Paolo e questa è una rilettura come altri aspetti degli scritti di Paolo profondamente originale del tema del tema biblico che Dio in quanto Signore del Cosmo è Signore della storia Dio agisce nella storia questa è la caratteristica fondamentale del Dio Bibli pensate a tutta la storia diciamo tormentata dei rapporti tra Dio e Israele la liberazione dall'Egitto il viaggio di 40 anni nel deserto la consegna a Mosè delle tavole della legge la terra promessa e dunque c'è questo rapporto di amore di tradimenti tra Dio e Israele che però dimostra come la providenza di Dio interviene continuamente nella storia e si manifesta nella storia un tema come vedremo che sarà ripreso dai teologi cristiani Paolo lo rilegge in questo modo Dio che cos'è l'economia l'economia di Dio Dio ha preparato fin nel suo insondabile nella sua insondabile volontà un piano di salvezza per tutti credenti in Cristo tutti sono chiamati e questo è il punto il famoso capitolo ottavo dell'epistola ai romani anche se solo lui sa chi alla fine sarà veramente eletto è un passo sul quale sono scorsi e continueranno a scorrere fiumi di chiostro ma io lo ricordo perché qui per la prima volta con Paolo hai messo chiaramente a tema questo problema di fondo del rapporto tra la prescienza divina il piano di economia della salvezza di Dio che si rivolge a tutti i credenti in Cristo e il fatto che non tutti si salveranno ma non in funzione della loro libertà ma perché Dio ne ha scelti soltanto alcuni dunque questo diciamo mistero che giace nella volontà insondabile di Dio dunque per riassumere questo aspetto della dimensione biblica che i primi cristiani elaborano essi riprendono il concetto di provvidenza e l'idea di un Dio creatore unico provvidente nei confronti del cosmo della storia e del singolo e si trovano a questo punto di fronte alla vera novità cioè come conciliare questa concezione col dato nuovo della fede cristiana e cioè la fede nel Cristo un Cristo che già alla fine già per Paolo ma soprattutto per l'autore del Vangelo di Giovanni alla fine del primo secolo è diventato un essere misterioso trascendente il Logos il figlio di Dio voi ricordate il prologo del Vangelo di Giovanni in principio in archè era il Logos e dunque il problema della prima teologia cristiana è di capire il senso profondo di questa affermazione essendo il Vangelo di Giovanni un testo che è entrato poi nel canone ben presto entrato nel canone era un testo rivelato qual era il contenuto di questa rivelazione e per rispondere a questa domanda si sono rivolti alla tradizione filosofica greca e qui allora avviene il primo diciamo intreccio importante tra tradizione filosofica greca e dato biblico e qui si apre un problema più generale vorrei solo ricordarlo oggi i giornali parlavano del viaggio di Benedetto XVI in Inghilterra io vorrei ricordare in funzione del discorso che stiamo facendo il famoso discorso che Papa Benedetto XVI ha fatto a Regensburg nel dicembre 2006 di cui si parlò molto sui giornali perché fu visto come un attacco all'Islam ma che in realtà era un tipico discorso del professor Ratzinger ai suoi colleghi dell'Università di Regensburg che ruotava intorno a un problema fondamentale che aveva già appassionato il giovane Ratzinger uno dei suoi primi scritti nel 66 era proprio dedicato a questo problema del significato dell'incontro tra tradizione filosofica greca e patrimonio biblico era stato un incontro positivo o era stato un incontro negativo il Papa diceva in quel discorso chiaramente che era stato un incontro essenziale e per far questo concentrava il suo discorso sul ruolo del Logos cioè il Logos di cui parlavamo prima a proposito del Vangelo di Giovanni riprendendo idee antiche già degli apologeti del secondo secolo e dicendo che di Giustino per esempio il Logos della tradizione greca si era poi manifestato compiutamente diciamo il Logos con la L minuscola della nostra ragione si era manifestato compiutamente nel Logos con la L maiuscola come figlio di Dio e dunque che questo incontro tra tradizione filosofica greca e dato biblico era per lui essenziale e il Papa polemizzava esplicitamente usava questo termine tecnico contro la deellenizzazione del cristianesimo e cioè contro tutte quelle correnti in realtà di matrice protestante si può risalire a melantone che avevano visto in questo processo di simbiosi tra tradizione filosofica greca e dato biblico un elemento negativo il Papa non lo cita però il caso classico del più grande studioso di storia dei dogmi protestante Adolfo von Arnach che alla fine dell'ottocento nella sua storia dei dogmi dice appunto che la teologia cristiana è sorta dall'incontro tra la tradizione biblica e lo spirito della filosofia greca ma e questo è l'elemento essenziale per Arnach protestante era stato un elemento negativo che aveva allontanato i cristiani dal messaggio originario di Gesù che non era filosofico ma era di tipo etico ecco il Papa e chi si richiama a lui sostiene invece che c'è un intreccio profondo tra tradizione biblica e filosofia greca che non va valutato negativamente devo dire che dal punto di vista storico io sono d'accordo e il discorso che sto facendo va in questo modo con alcune precisazioni intanto perché storicamente non si sottolinea abbastanza una caratteristica di questa riflessione teologica che sovente è una riflessione che avviene come esegesi cioè questi autori parlerò dirò qualcosa sui due più grandi origine e agostino sono autori che non riflettono astrattamente sui problemi teologici più importanti ma sovente nella predicazione a partire dal confronto col testo biblico è come dire una teologia esegetica e questo condiziona molto il pensiero teologico cristiano antico e il secondo elemento che è una teologia estremamente complessa e contraddittoria pensate che non c'è un dogma della provvidenza cioè la chiesa antica a differenza di altri punti nodali il rapporto mistero trinitario i dogmi cristologici non ha non è riuscito non ha voluto non ha fissato una dottrina a cui crede in un concilio ecumenico in cui il credente deve credere nei secoli dunque rimane un campo aperto e io vorrei dare un po' un'idea di questa complessità dicevo la tradizione filosofica greca beh qui l'autore fondamentale è Platone i padri si sono rifatti a Platone in sostanza per due motivi tutta la storia dell'influsso di Platone e del platonismo l'elenizzazione del cristianesimo è passata soprattutto attraverso l'influsso più che aristotile della tradizione platonica il motivo è evidente Platone aveva un'idea trascendente del bene i padri miravano a una costruzione che rendesse possibile conciliare l'idea di un dio provvidente con il meglio della tradizione filosofo il platonismo da questo punto di vista si sposava bene ora il testo fondamentale a cui i padri si richiamano per elaborare teologicamente il concetto di provvidenza è il decimo libro delle leggi di Platone una delle sue ultime opere molto lunga molto complessa interessante soprattutto dal punto di vista politologico ma che ha anche un'idea teologica fondamentale nel decimo libro Platone attraverso il suo portaparola lattenese affronta un tema potremmo dire di grande attualità e cioè è possibile avere delle leggi o meglio la legge senza un fondamento divino la legge per esistere deve avere un fondamento divino dunque perché ci sia questo fondamento bisogna dimostrare contro gli atei contro gli atomisti contro Democrito bisogna dimostrare l'esistenza dell'anima prima e l'esistenza degli dei e buona parte del libro decimo verte su questa dimostrazione per il nostro discorso è fondamentale un punto laddove Platone dimostrata l'esistenza lattenese diciamo dimostrata l'esistenza dell'anima ricordato che quest'anima individuale sorretta da una grande anima che regge il cosmo l'anima del mondo afferma che in questo modo la divinità ha a cuore il cosmo sia le cose grandi sia le cose piccole e c'è questa frase bellissima dice tutti noi siamo possesso degli dei cioè gli dei contrariamente a quello che talora si dice ecco gli dei si curano degli uomini hanno una specie di interesse di proprietà anche se precisa noi non dobbiamo aspettarci che il nostro interesse personale prevalga sull'interesse generale perché noi siamo soltanto una parte del tutto che è il vero oggetto della provvidenza divina e usa proprio questo termine pronoia che diventa allora l'antesignano della provvidenza cristiana e il secondo elemento della tradizione filosofica importante è il modo in cui poi una scuola ellenistica che ha molto influenzato la tradizione teologica cristiana cioè gli stoici hanno elaborato un concetto di provvidenza immanente non esiste una divinità trascendente che ha questa questa dimensione fondamentale è il logos è razionale questo fatto che gli stoici parlano di un logos che regge e amministra il cosmo dal punto di vista stoico con una diciamo aspetto di determinismo ecco i padri hanno ripreso questa idea del logos che amministra il cosmo e l'hanno applicata al logos figlio di dio e mediatore tra il dio creatore e l'umanità a partire da queste note elementari hanno creato varie concezioni io ricordo brevemente le più importanti e poi nella parte finale del mio intervento mi soffermo su quella che mi pare centrale sul rapporto tra prescienza divino diciamo determinismo divino e libero arbitrio una è evidente i padri hanno dicevo adesso hanno ripreso quest'idea dell'anima del mondo che amministra il cosmo provvidenzialmente e l'hanno applicata al logos preesistente il logos del Vangelo di Giovanni che diventa per certi autori il logos è non solo la ragione ma anche la parola siccome la Genesi dice che Dio crea il mondo non dal nulla ma e Dio disse e dunque attraverso la parola in un filone interpretativo cristiano questa parola diventa il logos il logos diventa l'agente e l'apostrofo agente della creazione e in quanto tale colui che il figlio è delegato dal padre ad occuparsi concretamente dell'amministrazione del cosmo e dunque c'è questa prima rilettura originale di una tradizione filosofica greca che viene applicata in funzione della preesistenza del figlio di Dio in quanto logos dunque la providenza divina in questa tradizione è il logos di Dio che pensa inizialmente dispone crea e governa il cosmo non è Dio dire non è tanto Dio direttamente quanto attraverso la mediazione del figlio è il grande tema del ruolo di mediazione che svolge il figlio e che si manifesta nella bellezza del cosmo questo è un tema greco non il cosmo vuol dire ordine è tema biblico nella armonia del corpo umano creato in questo modo il secondo tema fondamentale l'ho già ricordato è piuttosto di matrice biblica questa providenza dirige e governa la vita dell'umanità e degli uomini e dunque dirige e governa la storia e il tema darò poi un esempio con origine del senso della storia Dio agisce nella storia providenzialmente ma allora qual è il senso della storia qual è il fine dell'agire non più del singolo ma dei popoli delle nazioni c'è un piano che è quello della storia contingente e questo piano della storia contingente in questa lettura si incrocia con un destino provvidente e misterioso che è il destino è il mistero della storia una storia che naturalmente in questa lettura è una storia della salvezza dell'umanità non solo la salvezza del singolo ma anche la salvezza dell'umanità i padri hanno ben presto riletto questo tema in chiave come dire di teologia politica Gesù era nato sotto l'imperatore Augusto e dunque questo non era un caso rispondeva a era un sincronismo come si diceva all'epoca a un piano misterioso di Dio che legava la sorte del popolo eletto da Dio il nuovo popolo il nuovo Israele all'impero romano e dunque si gettano le basi per una lettura provvidenziale della storia che poi trova degli esponenti importanti con la svolta di Costantino la conversione di Costantino quando poi l'impero nel quarto secolo diventa cristiano l'impero cristiano per questi autori da Eusebio l'attanzio fino ad Agostino la città di Dio dimostra che c'è un mistero celato nella storia che è legato al piano provvidenziale di Dio che agisce nella storia legato e intrecciato a questo tema ma diverso è il fatto che Dio ecco in questo piano salvifico non è che non interviene interviene attraverso il suo logos e attraverso una serie di mediatori per educare l'umanità se ho tempo ritornerò su questo tema con origine è un tema centrale nel pensiero di origine la provvidenza divina nella storia il tema che poi verrà come dire ripreso in veste secolare da Lessing ma c'è già in origine chiaramente cioè nella prima metà del terzo secolo Dio agisce come un educatore che attraverso una serie di personaggi dai profeti a Gesù a degli uomini straordinari cristiani educa il popolo eletto e gli altri popoli a questo suo progetto salvifico e poi c'è l'ultimo tema sul quale adesso mi concentro per avviarmi alla conclusione che è quello del rapporto misterioso l'avete già incontrato nel salmo l'abbiamo già incontrato in paolo tra determinismo divino e libertà umana naturalmente questo era un tema centrale nella filosofia greca su cui altri interverranno immagino in altre lezioni i greci usavano questo termine e i marmene per esempio per esprimere il senso del destino ricorrevano all'astrologia c'era tutta una mitologia che raccontava come l'anima prima di incorporarsi attraversava le varie sfere astrali e ogni sfera dava il suo imprintico in qualche modo erano i segni astrologici e alla fine l'insieme di questi segni costituivano il destino e l'uomo che cosa poteva fare? poteva cercare di decodificare questi segni per esempio attraverso la divinazione astrologica ma il suo destino era segnato e questo è un tema che viene ripreso in chiave provvidenzialistica perché qui abbiamo a che fare non con un destino impersonale ma con un dio personale e la caratteristica fondamentale l'ho già ricordata dotato di volontà allora il problema diventa l'uomo può avere accesso in qualche modo al mistero della volontà divina qui vi porto due esempi diametralmente opposti due risposte diametralmente opposte che servono se volete un po' anche di conclusione ma anche di invito alla riflessione per far vedere come il pensiero teologico cristiano su queste tematiche era molto aperto nell'antichità si potevano dare risposte diverse la prima è quella di origine che è il più grande pensatore in lingua greca che è vissuto nella prima metà del terzo secolo e è un pensatore che ha conosciuto una fortuna alterna soprattutto in occidente anche perché a partire da un certo punto dopo la sua morte alcune delle sue dottrine sono state per esempio la mitempsicosi l'apocatastasi sono state condannate in un concilio nel sesto secolo ma in realtà la fortuna del pensiero di origine arriva fino ai giorni nostri dunque ho già ricordato questa idea fondamentale origine ha una concezione del mondo originale veramente rispetto ad altri pensatori perché rompe questo universo chiuso si rifà alla concezione della pluralità dei mondi e platonicamente immagina che inizialmente esistessero create da Dio soltanto delle anime esseri razionali tra cui anche il Cristo e che a un certo punto nel tempo prima del tempo queste anime il tema platonico del mito di Er della caduta delle anime per un motivo diciamo misterioso una sorta di colpa antecedente siano cadute e si siano incorporate e a questo punto si apre il processo che prevede anche delle metempsicosi di liberazione delle anime e prevede anche la possibilità di esistenza di più mondi dunque origine ha una visione di una complessità cosmica che non a caso ritornò di grande attualità in epoca moderna quando si ruppe la visione chiusa del cosmo ora in questa prospettiva che senso ha la provvidenza di Dio Dio è uno iconomos dice origine cioè uno che agisce come un sapiente amministratore prevedendo tutto secondo un piano mirante al bene ecco questa è una prima caratteristica fondamentale di origine origine ha una concezione del male relativa e dunque prevede che poi alla fine un'interpretazione diciamo non sicura ma provata anche il diavolo possa essere alla fine di questo gigantesco processo cosmico liberato ora in questa prospettiva il male non è così radicale e l'uomo è dotato di un libero arbitrio che permette una diciamo relazione creatrice con la prescienza divina alla domanda come è possibile conciliare la libertà umana con la prescienza di Dio origine risponde semplificando uso un'espressione che potremmo dire c'è una sorta di coordinamento previo che cerca di tener conto di questi fattori la prescienza divina la provvidenza e la libertà dell'uomo e dunque ciò che conta dal punto di vista di origine è che è una provvidenza che cerca di conciliare in modo creativo e produttivo il mistero della prescienza con l'assoluta centralità della libertà dell'uomo Agostino Agostino ha influenzato tutta la nostra tradizione e uno degli aspetti più noti della sua posizione è il suo determinismo con Agostino abbiamo una risposta diversa tenete presente che Agostino Agostino nasce nel 356 poi c'è questa sua famosa conversione nel 386 Agostino che era nato in una famiglia in parte cristiana la madre Monica era cristiana si converte sotto l'influenza di Ambrogio al cristianesimo viene battezzato eccetera e all'epoca Agostino era un platonico e dunque aveva una concezione tipicamente platonica della provvidenza divina in quello che probabilmente è la sua prima opera il De Ordine una delle prime scritte subito dopo la conversione del 386 Agostino una tipica posizione filosofica come dire che serve da mappatura poi delle successive posizioni teologiche cristiane critica la concezione epicurea e atomistica perché questa difendendo il caso e gli otti gli atomi minava alla base qualunque idea di provvidenza e questo non fa problema dunque l'universo non è il frutto del caso ma dell'azione previdente e provvidente di Dio è chiaro nei confronti della filosofia stoica il cosmo non ha un ordine di una ragione immanente perché a crearlo è un Dio trascendente dunque difende questa dimensione della trascendenza di Dio e poi critica la posizione neoplatonica perché dice che il cosmo dal punto di vista cristiano è retto scusate se vi cito questa espressione latina molto pregnante da secretissimum maestatis arbitrium da un arbitrio secretissimo cioè che l'uomo non può comprendere della maestà divina e dunque introduce già in questa prima opera questo tema dell'arbitrium cioè della volontà misteriosa di Dio che crea un abisso tra l'uomo e la divinità in altri passi Agostino difende questa concezione del fatto e questo è l'elemento fondamentale che vorrei sottolineare del fatto che l'uomo soprattutto l'ultimo Agostino non può avere accesso al mistero della volontà divina dunque la providenza divina agisce come una disposizio e una economia ma dico ancora questo e poi concludo veramente come si pone rispetto al tema della libertà umana e qui Agostino ha una risposta diversa da quella di origine soprattutto nella polemica con Pelagio e i Pelagiani Pelagio e i Pelagiani sostenevano che la libertà umana era un dono di natura che il peccato aveva intaccato ma non cancellato l'ultimo Agostino passerà diversi anni a una dura ferocissima polemica contro Pelagio soprattutto Giovanni di Eclano dei suoi allievi per smontare questa concezione il peccato che poi dopo Agostino si chiamerà peccato originale e che viene trasmesso misteriosamente per Agostino da Adamo ai successori è qualcosa che ha intaccato in modo irrimediabile la natura umana e dunque ha attaccato in modo irrimediabile anche la libertà dell'uomo la libertà dell'uomo a differenza che per origine di per sé non è in grado di salvare l'uomo e dunque da questo punto di vista Agostino apre il problema che poi sarà centrale in tutta la tradizione teologica che a lui si richiama un nome su tutti Lutero apre il problema della decisività e del mistero dell'intervento divino è evidente che l'ultimo Agostino riprenda il paolo del capitolo 8 dell'epistola ai romani che io ricordo da molti chiamati ma pochi gli eletti e sottolinea chiaramente massa perdizioni che la maggior parte della gente è destinata ma che soltanto quelli che la volontà misteriosa insondabile di Dio ha predeterminato alla salvezza saranno salvati è una dottrina radicale che non a caso è sempre stata al centro delle discussioni della tradizione filosofica cristiana che merita di essere ricordata per la sua centralità a sua difesa vorrei soltanto dire non come giudizio ma come elemento di riflessione che in questo modo Agostino ha cercato e tutti coloro che sono richiamati a lui ha cercato di difendere il mistero della trascendenza divina da qualunque tipo di teologia per esempio tutte le teologie della analogia che pretendono in qualche modo di accostare Dio e l'uomo dunque mantenendo l'abisso questo secretissimo arbitrium di Dio l'uomo non può accostarsi e con questo penso di poter concludere grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti